Salute a tutti, in questo colpo ci troviamo qui in una valle di Valle Ruschia, a questo punto per parlare di un castagnetto, allora siamo in paese di Loriani, la comune di Gambia, sapete che quest'anno l'affare è piuttosto male per il castagno, c'è stata la sicchia, ma c'è di noi questa malattia che le chiamano sinips, allora il castagno è un po' di 42, sono parecchi anni che l'affare si imbruttano, ma bene come si può oggi cambiare le cose e può essere avanzato tra questo capadoglio di castagno, abbiamo invitato a Stefano Guerini, che c'è un castagnaggio qui che campano sempre di castagno, a Stefano ti ringrazio questa salute. Prima di parlare di queste malattie, infatti il castagno c'è una vecchia storia in Corsica. Ah, ho studiato il castagno in Corsica, c'è una storia di più di 500 anni, sono i sinuesi che hanno letto tutti i costi, la faccio la mettere in castagno per poi campare, per poi mangiare. C'è una cultura, infatti, c'è una cultura, in tutto caso è a me. Tu sei nato qui, sei nato a mezzo castagno? No, sono mica nato qui, sono nato a Marsella e dopo sono portato a un paese a 18 anni, per una prima urt, e poi dopo mi sono andato d'ora e poi dopo sono portato definitivamente verso 23 o 24 anni. Come ti è pigliata quella castagno? Ah, io sempre ho pensato, stiamo qui in paese, perché sono gioco, non sono mica, c'è una specie di vocazione, una specie di passione. E' un affare, un paragone, perché è stato un obbligo, i genuesi hanno obbligato i Corsica a piantare i castagni. E oggi si può dire che quasi quasi... Allora, io bego, se tu vuoi dire, oggi se tu vuoi, ci ho convinto io, diamo generazione di quelli che sono rientrati in Corsica per farci il mestiere. E'mmo verso tutto è bene, e'mmo verso tutto a maniera i bientà e a maniera di insidà, perché'mmo messo tutta la nostra bassione, la nostra energia, nella rinnovazione. E'mmo capitale e i castagni che era qui, che era presente, e dunque abbiamo rinnovato i castagni e siamo rinnovati per i bientali, è bene. Allora, abbiamo rinnovato dopo la 60? Vi, Ignaghi, vi, Clementina, Ranci, i castagni? Anche le campagne. E' bene. E' stato stato forse una politica, forse una vestibilità, forse soltanto una vestibilità, perché qua si bastano 30 o 40 anni fa, non c'è più o meno un castagno in Bosto in Corsica. o dopo io ho cercato a metterne a 20-25 e non ci sono manco giunto. Ma forse io dovrebbe arrivare a pensare a qui, a piantare torno ai castagni. Ma c'è un fatto maggiore, i paesi si guardano, non c'è più niente nei paesi. Non c'è più niente, basta bere qui, basta bere uno paese. Siamo 7-8 a tornare a campare sempre qui. Ma è difficile d'avanzare quando non c'è più popolazione? Non solamente c'è più popolazione, non c'è più castagna, non c'è più niente che s'occupe la castagna, perché non c'è più niente nel paese, ma quali che fanno cagare, dovrebbero andare a bere come le sbassano i castagni, se le sbattano le sbattano, non c'è più niente nel paese. Non c'è più niente nel paese, non c'è più niente nel paese. E' il punto di vista? Il punto di vista è un nostro problema, un altro pensiero, è che oggi dovrebbe ripensare tutto il paese, perché non possiamo non investire, l'affare delle piantazioni non possiamo investire, noi, i castagnati, investiremo in un luogo, forse per quelli che venneranno dopo, se non siamo sicuri di poter dare le buoi profondità del castagno per l'annata che banano. Oggi non c'è soluzione, se capisci qua. E' soluzioni ci sono, ci sarebbero, ci sarebbero, ma per un momento, per un momento c'è nulla, è vero. Ciò che entro sa mica che il castagno tutto l'anno si lavora il castagno, non c'è solo la cuillera. Allora no, manca pena, manca pena. Il castagno è buono. Io, ciò che faccio vedere, principiamo i primi tempi di settembre, per diraschere, chiamavano i vecchi. Elli attaccavano i vecchi, mi ricordo, dopo il quinto giorno 8. Noi attacchiamo il primo settembre, c'è un mese, un mese di diraschere, perché è di barretti i castagni. Dopo c'è la coglia di castagno, dopo c'è la secca, c'è la mariglia di barretti 8. Dopo c'è tutto, c'è quello di bassa, non c'è il castagno, a scavare, a pulire, e dalle bastarde, erano anche morti, e poi ci sono le caccelle di noi, e dopo riprescimmo un'altra volta. Poi c'è il città, c'è il città, ma c'è il città, non c'è il città. Allora, c'è il città, non c'è il città. come è la piantazione, un città, abbiamo perso, perché torniamo la volta, abbiamo messo tutta la nostra energia, nella rinnovazione di castagneto, e abbiamo perso la maniera in città, e abbiamo perso parecchere buono, e abbiamo perso la ricerca, ma non c'è il città, ma noi, la nostra generazione, abbiamo perso più in città. Era una maniera particolare, a cannello si dava, no? Sì, i castagni, mi pare che non si dava la cannella. Staccano la uccia? Staccano la uccia, e mettevano un diametro esattamente lo stesso, e ufficavano l'entro. C'è una varietà particolare, perché in ogni regione, ho l'impressione che ogni regione ha varietà di castagni. Non c'è una varietà particolare, ma abbiamo, abbiamo la campanese, le castagni per la verina, tutto il mondo è lì, e abbiamo le castagni per la verina, dove abbiamo l'entile, e la didulana, che le chiamavano adeggia. Adeggia. E queste castagne preferite? Sì. Perché dopo c'è una castagna, che le chiamavano a vendere fresca? Allora, la castagna fresca è di poco, come abbiamo qui, a 7-8 anni, abbiamo visto un mercato per vendere la castagna fresca, e ci siamo messi, allora, è più rossa, tutte le castagne sono calibrate, e tutto è più rossa, e cerchiamo a vendere così in fresca, o ne passiamo più in ferina. E c'è una varietà? C'è una volta varietà. Ma chi ne fanno, facendo le vallotte, e facendo le guiglie che usano queste castagne fresche? Allora, ci sono quelle che fanno che fanno le castagne in un mercato in Bastia, le chiamavano oggi e grieure, quelle che fanno le castagne arrostano, arrostano, e dopo, ci sono tutti quelli che fanno la confittura. E? Manto la confittura, per la confittura c'è una rossa o manda. le castagne confitte, no? Le castagne confitte ma io ne vendo mica, questo caso qui. Una castagna particolare? Le castagne confitte le marron glacé, le marron glacé di un marron, di una castagna sana, che non è mica staccata. Penso che a maniera di cambiare, oggi è più la stessa, nei 40 anni che c'è stato, Coglie va avvenendo o non è più lo stesso che Nanzo? Allora, non è più lo stesso che Coglie. Allora, io sono stato quelli che hanno un vestito in una maniera, non tanto, io ho un trattore, una maschia a Coglie, la giudendo 3 o 4 anni e poi mi sono cacciato subito che mi sono visto che la meccanica non era mica fatta per me, era troppo complicata e sono giunto, sono buttato oggi a maniera, a maniera, a maniera, a maniera, di quelle castagne, a mano. Allora, ti premo con un affare, se abbiamo appuntato a Rosaglia, dove Pancrazio Francesco, forse lo conosce, che ho un vecchio castagnacchio, ne pochi anni fa, avevamo visto la Pancrazia e ci abbiamo mostrato come le lavorano in una castagna nei vecchi tempi. Lottatore e lavorista per tutto il mondo. un mese piavano in liberazione, lo affisciavano all'ameria, l'affisciavano tutto il giornale e guardia campista avvertiva tutto il mondo e era, se lui c'erano i mali che si bruminavano, visto che, mettia le menti, mettia, e suonava le campagne per avvertire che era furisto per tutto il mondo. Era un furisto? Furisto, fa che tutti i pastori, copre, piccole, bocche, purci, se ne favano tutti sotto la serna perché non c'erano più castagne. La castagna ha girato la vita, la castagna. Se non c'erano le castagne per mangiare, se non c'erano le maglie, l'olio, lo scambio con tutto. che ci siamo. Qui Morosaia, principiavamo a cogliere per i salti fino alla fine di novembre. Io sono mostrato alla scuola dopo il primo novembre all'Ukrento dove i moratelli erano sorrisi un mese a cogliere. Quest'anno in Morosaia c'erano 150 scolari venivano da Torrenzo, da Urezza, da Moltifau erano tutti in pensione qui. Questi andavano alla scuola ma noi che eravamo paesoni alla scuola di novembre non so li raccontarci. E i maestri non dicevano nulla? No, sabivano che eravamo famiglie numerose ma eravamo molto fra delle sorrille. E' più vero. Allora cogliamo le castagne per tanti a mese. C'eravano i sogni o che? Eh, tanto eravano i sogni che eravano da ridare la burta e me lo dicevano. Allora per cogliere la raggiungiamo e quella rimanisca invece era quando lo fecevo il sole vede tanto. Allora quando lo fecevo il pallo gli ucci si tiravano a metà l'ugno alla carne la sera eravamo piccata una palla di mano. Quando eravamo contenti zingavano mica gli ucci. strumenti per cogliere notte giorni senza mai piantare. E poi c'era la prima semmana perché con le suve non c'era mica piantare il fuoco il segno dopo non c'era più bene. C'era più il fuoco continuare. Dopo una volta si cerca basta appena il fuoco. Avevo poi dieci anni e culturavamo perché le rintessino quelle sopra e sotto si cercavamo due o tre volte che trovavamo. Sì le tre semone perché le fosse novelle e le sette tutte. Sopo i castagni? Sopo i castagni. Perché? Perché una volta c'era il cugino qui da Puglivero avevano tagliato i pini qui da Rito avevano fatto le regne e i pini avevano seccato le castagne con il vino perché non mangiò. Perché prima i vecchi dormivano in grado avevano tutto il suo pancone e dormivano ma sentivano e sorvegliavano. Quando avevano 15 giorni di secchia quell'avevano in grado e avevano usato così sentivano le gioche erano secche dopo le avevano una così in delle mani le avevano manciaccate così e la castagna si sbucciava e ha detto un po' dopo la incontri sbucciava Poi stavamo, cioè le castagne siano quelle secche. Mettiamo un po' di un decalizzo di castagne dentro e bastiamo un altro gruppo. Io dava sei corti, una parte e sei all'altra. Dopo emulichiamo, abbiamo tornato sei corti, cambiava sempre. Poi stavamo una giornata sana. Se non sapete, perché c'è un corpo anche a piazza di questo. Dicevano i vecchi solo che il corpo sia portato. Quando abbiamo minato i saccoli, c'è il mio camminato e cacciato. C'è quello di sapogli. C'è l'accompagnato. Io minavo i Uglia Berti. La cuccia è più abbattita e più piscicciosa. Quella sia bella semplice. La cuccia è bella semplice. Mettiamo un banco o un'esergie in una talla. Un gerniglio in alto. Dopo mettiamo in una pentola, l'altra semplice. Dopo lo cuccolavamo e lo scegliamo. La cuccia che restava, quella che era guarda, quella che era fraccia. Aiutavamo. Un gerniglio. C'era un gerniglio per l'urone e per le castagne. Per l'urone le cose sono più strette. E questo per le castagne. C'è da scegliere una a una. Se volete fare una a una, c'è da scegliere una a una. Poi c'è da scegliere un po' più giusto. Se le erano troppo larga, dopo se ne fallavano le castagne nelle erano minuti, se le erano due sono strette. Ma più so battute, meglio ce ne chiedono. Dopo è come pure. Se solte tutto, solte, falla tutto. Dopo ebbiamo e mettiamo in dei sacchi. C'errnigliate, scendiamolo il forno, la scalavamo e la calvaramo tornando ufa o regione in entro. Si cacciava tutta l'unità, poi quando le faccio da ufa, lì erano sette, pisticciolavano. Quando è buon fumigate e che poi i botti torna l'uomo, la lesina se ne va, quando sono belle colle secche, vi stiamo con quelle lesina. C'ho accacciato la lesina? Ho sentito che la prima non è buono, dopo ho accacciato l'acqua, ho spiuto l'acqua. Allora, un mulino, io andava a giù, c'era un mucca, qualche tavola con i ghetti e fecevano fare l'acqua allo stimento, e in fondo io c'era una rotina, questa quarantena così, che è male nato, e l'acqua eliminava lì e la girava, e questo feceva girare la macina, e la la macina la regolavano, perché la frutte si va, e le castagne, e vediamo che lo so che le lampavano da un cacione, a ribugliola le chiamavano, ecco, c'erano a fare stretto in fondo e l'ergo in cima, e qui c'era un pezzo di legno, che fruttavano da la macina e feceva girare la ribugliola, perché le fallissime, e perché se le chiamavano la ribugliola, feceva fare le castagne, se le faravano troppo mettete una tavachetta, se non era abbastanza ne cacciavate uno, perché i faravano, sui a sapere, era l'abitudine qua, che era, non puoi immaginare che tu viesi un mullino, dormiva sempre il mullino, dormiva, allora a me le castagne, dopo diciamo, un po', domattina sono fatte, tutta la nottata immaginava, dormiva qua, io quello è tutto, all'oreccia, sentia se l'andava, se l'andava, quando si impastava la sentia subito, perché se le castagne, c'era qualche mulone niente, non ne volia immaginava, era un mistero il mulinacchi? Ah, era un mistero, è bene, è bene, era un mistero, io che sono andato niente, sono molti niente, era un mistero, tutto il mondo ne vogliamo capare allora, penso che hai riconosciuto molti affari, a bistera, a sicchiera, su affari che ti hai fatto, non tu, penso? sono affari che conosco, l'affari dei misteri e delle mani risicare i castagni hanno cambiato, perché io mi ricordo quando gli vedi che pistano i castagni c'era un truppo, ogni casa c'era un truppo accanto al bottone e non c'era più, non c'era più, quando i monti la scale non c'era tempo, e pitte la macchina perchè ti vai fai occhierdato? Il fine, perеспine i castagni e ci vuoi entendere tornare!!! E così va conf Angie and Quando si mette l'acqua e le faccio un shock termico e si gaccia più facile. Si stacca? Si stacca. E dopo si cadono e ce l'ho da un po', ma... Allora si capisce. Allora in Corsica, quando facciamo le castagne, c'è due mani risiche di castagne. C'è un po' di regionale, non è più il po' di castagne, ma c'è un po' di castagne. E dopo c'è un po' di castagne, c'è due uie, e basta prima di castagne e dopo non è arrivato. E' la stessa? Allora, per me è la stessa, non c'è mica un gusto speciale quando si dice che è castagne con il castagne, ma dopo c'è una storia economica. e per me è un po' di castagno che è un po' di castagno totalmente. Allora, a questo punto per arrivare al discorso di Monenzo, non c'è la situazione, nei paesi, niente. Oggi, quello che hanno i castagnetti, è facile di mandare, di affittare un po' di castagno? È difficile, oggi, di allargarsi? Penso che ti hai volontà di allargarsi, non tu? Non avevi appena più di castagno. Allora, da parte a me era abbastanza più facile di domandare i castagni quando erano buoni anni fa. Invece, ad esempio, la cultura di un castagnero, non c'erano il lavoro di un castagnero. Quando erano un giorno, perché tanto era giorno, un giorno domandavano i castagni, e cercano di entrare e arrivare a un castagnero, erano contenti. Allora, non c'erano più di questa cultura. E poi, c'erano un'altra cosa, perché non c'erano più di uno dei suoi luoghi. domandavano un affitto per un luogo. I giorni che stanno in Parigi, Marseille o Astro, non c'erano più di uno dei suoi luoghi. Sono staccati i suoi luoghi? Allora, sono staccati. Non c'erano più di questi giorni, quindi i giorni della settimana. Non c'erano più staccati dalla mente, ma dopo hanno perso completamente la maniera di un paese e non c'erano più di una mentalità. E non c'erano più di questi tuoi sogni di salvare Castagnero? Allora, questo non c'erano più di questo. Non c'erano più di questo. Non c'erano più di questo. Perché i giorni di Stato ne ballano, ne ballano, tre settimane, un mese, quando la facano qui. Ma quelli che fraccano i caderi per andare appena più lontano da un paese, sono pochi. E poi c'erano più di una manubra per lavorare. Penso che non c'erano più di noi. e non c'erano più di noi. E poi ci sono i soldi, e ci sono le manubri. Sì, abbiamo tutti, tutti quelli che faccio la verina attualmente, siamo cercati più a niente per aiutarci. Sì, a giusto appunto, perché appena appena dono la qualità delle castagne, i castagni oggi sono vecchi, sono frusti, si può dire. Cacchiano sempre i castagni, ma è becchiaia quanto tu. Sì, in mezzo più di me, i castagni non sono italiani, sono castagni che hanno da 400-500 anni. E così, ma producono sempre. Sono castagni che l'ampano, un'ampano mica una fortuna. Quando tu beri, io quando vedi i castagni, per esempio in biglisoni, che sono castagnoni, e roba è più giuna, è abbastanza più giuna. L'ampano forse, tre o quattro volte, i buchi, ma ho messo sempre qui, e l'ampano sempre. Quelli che hai piantato, c'è una differenza? I castagni che hai piantato e i castagni ricchi che hai? Quelli che hai piantato, io ho fatto una brutta alimentazione quasi 15 anni, e hai piantato, e hai messo 25 castagni, e il vino c'è mancuno che ha piato. Forse, beh, pareti ben seri, ma a venali d'acchi non c'è mancuno che ha piato. Perché c'è un problema che dice, castagna, se tu la pianti, non la magna. Quello che la pianta, non la magna. e bere, e bere, perché si pianta sempre quelle che vengono. Perché c'è loro tempo un castagno, quanto si mette un castagno a fare? Noi so, ma io penso da 10 a 15 anni. C'ho aspettato un minuto di 15 anni. Quello che l'ampano appena di castagni, non c'è una bruazione estraordinaria, ma quanto a me la prima lampata era da 10 a 15 anni. Quindi, ce l'avevi conto che i mesi d'anni, non è capace? Ce l'ho messo in paesi dellì. Come hanno pensato i nostri vecchi a noi, ce l'ho pensato a quelle che vengono le castagni sono vecchi, penso che devono fare il conto. E poi, oggi, quest'anno è stata la sequia, c'è sempre l'affare dell'osinipso e poi, più di questi anni, manca la candela. La piozza va a 90 noviembre, ma era appena tardi. C'è perché tu vissi quando, perché la castagno adesso va? Allora, io me ne ricordo quando ero in paesi da strada, quando ero a Diogo. Dopo, c'era l'osinipso la santa maria, la santa maria, chiamavano i vecchi, e i vecchi c'erano sempre di acqua per i castagni. Allora, adempere la santa maria, ora stanno con l'aspetto e con l'ergo più, un cibo di blu dopo la santa maria. Piove appena di settembre, dunque, da questa mese, ciò leggo più, dopo la santa maria. che non piove più. Qui, qui, tutto l'ostro ha piozzo 8 uie, a settembre manca una gandella e appena 8 uie. Allora, qui, se no, il rendimento di castagno è calato? Abbastanza, abbastanza, ci va già abbastanza il castagno, l'acqua. Allora, e poi, ho capatoio in più. Come tutti i l'arbori. E poi ho capatoio in più. Allora, quest'anno si è giunto questo mignocolo che le chiamano Sinipsa. E, malgrosamente, non è mai giunto quest'anno, l'avevo giù in Corsica in 2010, avevo fatto già quattro anni, è giunto qui a Loriane, l'avevo giù in Loriane, e in 2001, e dopo, e avevo tre o quattro anni che cerchiamo a pararlo. A come pararlo? Allora, pararlo, ce la capiamo, un altro insetto che chiamiamo Dorimus, che normalmente avrebbe a regolare il Sinipsa. Io, appena ammastorato, ci abbiamo creato una mobilizzazione politica per salvare i castagni, hai fatto le serate culturali per cogliere soldi, ma i poteri pubblichi non hanno mica troppo... No, ma quei poteri pubblichi girano una decisione nostra, nostra, di una domanda di onde, perché non so, lavorano, per salvare i castagni e per la foresta, siamo noi, che abbiamo deciso di domandare i bubbi. Allora, ci siamo andati in palnega in chiesone per bere ogni effetto di questa malattia, e poi, i fratelli vantavozi che sono castagnati in chiesone si tornano i guai, perché non c'è mica castagni. C'è la morte di castagni, ce ne ha più cavallo, tutto il mondo con il tempo. Il mio papà e la mia mamma cogliamo i castagni e facciamo i sicari e facciamo la varina. Non è che dopo i cavalli che ne vendiamo qua, perché dopo tutto il mondo ci siamo andati e dopo quando ci siamo multati non abbiamo più fatto la varina, cogliamo i castagni e le vendiamo. Dopo che so, qui c'erano i castagni non c'erano i castagni, perché se è nostra allora i guagli. Ora diciamo che in Italia si mangiano tutti i porchi e i vacchi. Non è mica piurita, d'abitudine non ha piove e non è mica piurita. Quindi sono vicino all'acqua, sono bedi, sono grossi, sono tamantini, non si può nemicare a guaglia. Dopo i castagni hanno parlato di questa malattia. Non lo conosciate mica? No, 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 non sappiamo che ciò che dire. In chi sono noi ho primato? Non conosciamo mica. Non conosciamo mica. Questa malattia vedete qui, qui avete a voglia guarda, vedete così. Nanzino tutti così, a qua, vedete quando viene così, si mangiano, si mangiano, a voglia e ho piccolo voglio, quando lo sorti, si mangiano tutto. E il risultato è questo qui. Ferma così. Non c'è più castagni, vedete? Non c'è mica castagni. Guardate qui, è come l'è fatto. Qui, eh? Il risultato è come l'è fatto qui. Tutto il castagno diventa così. Si vede, non hanno fatto nulla. Quando voi vedete qui, c'è una malattia. Quando voi, quando vedete qui, c'è una malattia, è come una delle sorte dei castagni, un po' mica sorte, un po' mica sorte, si è finito. E compiono la farla. Beh, quest'anno non vogliono i castagni, ma entrando a presto come ho detto, ci sarà nulla nulla. Abbiamo una piccola mosca, giuca giuca, una piccola vespa, giuca giuca giuca, faccio 3.000 m, 3.000 m, lo sappiamo, giuca giuca giuca. E qua, per tombare qui, è emolentato il 3 maggio, quest'anno, lo sto rimesso, diciamo, lo sto rimesso. Un mignogolo. Un mignogolo, lo stesso, lo è emolentato qui. E qua, dove si è messo 30 staffare qui, dentro qui, era in 30. Una catastrofa per noi, per noi, e per i castagni, e per tutti, gli animali, i guacchi, i porchi, i segnali, i topi, i mangiano tutto, facendo la riserva di inguerno, i topi di castagni, facendo la riserva di inguerno, e mangiano tutto di inguerno, costantemente si rifiuta per recuperare. le proprietà, qui, sono a 7 km da chi sono, e curiamo a piedi, con la mera, curiamo a piedi, con la mera, e ci diciamo, un'ora, un'ora e mezza, non da che per curare, e un'ora, un'ora e mezza, per tornare a sera. Dunque, curiamo a buona ora, e parliamo alla nottata. Parlando alla nottata, a piedi, strambacchionando, strambacchionando, sempre con la mera e davanti, piano piano, ci arrangiamo, e campiamo, più o meno cosa fare qui. Qui, qui, a metà, più o meno, hanno proprietà, di ente, che viene di castagnetti. I gioli. I gioli. Ma noi, lavoriamo a metà, spartiamo a metà, e il buagretto, di Babbo, dice, è giocato ancora, a guarra. Non fa soccato. Un'ora e 94. dunque, a valo, non è più la stessa, perché le proprietà, sono tutte giuste, sono nostre, e qui, ciò che c'è, spartiamo, per una varina. Tutto un mondo, avviuso, ciò che riesce. Vado a fare un po' spropositato, ma con un poetto di Babbo, nemmo conto, veramente, 82. La qualità di castangia, è questa che ha giù qui. La riata, la riata, perché per noi, è la prima qualità, è la prima qualità. In particolare? È più grossa, è più dolce, è più dolce, è più dolce. Facciamo la farina. Dopo ci sono, ci sono, ci sono le castagne, più o meno, bastarde, ma non le mettiamo in trento. Quando abbiamo fatto la farina, scegliamo le nostre castagne. Tutto ciò che chiamavano i gugiomboli, i gugiomboli, se le rosse castagne, bastardo, non le mettiamo in trento, perché non seccavano in trento. i nostri vecchi erano obbligati di piantare, hanno la mangiare. Allora, a quale, non piantiamo più nulla. E si campano anche le castagne di vecchi? Si campano anche le castagne di vecchi. Se non ci siamo mica arrivati a questa malattia, c'è, davvero, davvero il pensiero. Allora, questa malattia, hai visto le vostre che la faccio? Io ne ho visto. Allora, c'è un esempio, io ho un castagne di noriano, con due coi, normalmente da 15-20 donne, le castagne, quest'anno abbiamo comprato 226 kg di castagne. Voglio dire che è posto castagni bullido, e le mo bullido, le mui rascate, come d'habitude, e non c'è mica, non c'è mica porosione. Ma, anche se la malattia, sono arrivati tutti, i castagni? Allora, la malattia sarà sempre, per esempio, una volta che l'oggi c'è, 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 questa esperienza, a 80%. Ma, e piantando castagne noi, non c'è mica la variata di casta, che so resistente a questa malattia? Un penso mica, no. Ci do la variata, Sono un ricercato in Corsica, non c'è la nostra vita in Corsica, che ci sono che resistono più, che sono più forti alla malattia che da altri, ma che resistono completamente un po' mica. Ma come si spargli questa malattia? Per vento. Per tutto, quando abbiamo dovuto andare nelle prime volte, abbiamo dovuto andare in un campino, e poi abbiamo in un colpo, e qui abbiamo dovuto andare in base alla Corsica, e abbiamo dovuto andare a vento, e sono i venti che la buttano. Tu ti trovi la catastrofe a più di un cazzaniero quest'anno? Sì, e poi... ma in fuga, in fuga, in fuga, da 20-25 km all'anno. E' un affare... ma ci sono i regioni che sono meno d'occhio, eh? Sì, e poi ci sono i regioni che sono meno d'occhio, e poi ci sono i regioni che compiemmo i regioni di Murado, una malattia di rappresentazione della stallata, e qua si ribigliano. Quest'anno i Muradinkhi attaccano donne a cuore. A parte su famoso Doremus, non c'è mica trattamenti, e non c'è mica i regioni per cacciare. No, 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 no. Ma a vecchiaio il castagno, la debolisce? Sicuramente, sicuramente un castagno vecchio sarà più... sarà più debole che un castagno nuovo. Ma... non è mica il primo pensiero. Il primo pensiero è che... E io bego non a me, ci sono i castagni che dobbano usinips, o so mica se lo usinips, perché come deve essere usinips e aziquia, l'istia sudampo, che si è uscicato completamente. Ma basta bene se liberamente usinips o aziquia. Allora, coi, hai cominciato a coi, e fa appena ho il punto di oio di travaglia. Quindi si oge questa sicilia? Oio, tu, a ogni giorno oio? A cuoiera, come va? Allora, qui è bella semplice. Qui Loriani è attaccato a coi, è muovo due o tre giorni, sopposettamente, e se mi resta di coi, perché non c'è nulla, non c'è nulla a coi. Allora, c'è un altro pensiero, che tutti i castagni sono occiosi, come non c'è mica il castagno in divore e di ose, ci sono tutti quelli geniali, che forse non si rende bene a mangiare un po' di castagno che non è di ose. E quindi, in più, di tutto ciò che abbiamo, un altro pensiero. Ma c'è una parola di animali salvati, che ci sono sempre stati in corso? Sì, ma se le vogliono aspettare la pelle, lasciarci gogliere tranquillamente. Dunque, hai colto, allora, attacchi a oasi qua, come va? Sì, allora, qui sono già in sicari e in castagno, e prima è in base a ISEC, siamo in novembre, e oggi è in base a ISEC, e, fuori e mesura, riempiamo in sicari e in sicari. Allora, a Umanda, parliamo appena oggi di un mercato di Castagna in Corsia, come è questo mercato? Allora, a Castagna in Corsia, c'è un mondo di Averina, c'è sempre stato, un cala mica, c'è un mondo di... un cala mica, io ho venuto a ISEC 30 anni, venendo sempre qua, e poi più di qua qua, è mostrato un mondo, che ne parlavamo un Enzo, di Castagna in Corsia. a fare noi, e già ne va, o fuggiamo mica, o sembriamo vivi, mica bende la Castagna Vresca. E abbiamo imparato, piano piano, a fare questa Castagna Vresca, e si bende. il prezzo di Averina, cioè che si legna, ma io non so, non so nemmeno che c'è un travagione per fare Averina. Eh, c'è un travagione. A Bruasinecchi, abbiamo visto i barretti, che si sono installati, hanno bruata, a fare Averina, un anno, a treppo, dopo, si chiamano un foglio, a fare straffare. Averina, un paese sicuro di un travagione, e, io penso che, il prezzo, il prezzo attuale di Averina, non è mica troppo caro, non è mica troppo caro. E tu capisci, non è mica che, un prodotto artigianale, c'è un travagio? Siamo, è verità, è verità, siamo quasi diventato, è quasi diventato un prodotto in uso, ma c'è sempre, la traizione, la cultura di Averina in corso, e di un bene. Quando eravamo cittadini, ci parlavano di Boulenda, non avevamo sempre parlato, oggi, siamo un bravo di Boulenda, si può dire. Io no, per la mia parte no, ma, è bene, è bene. Allora, c'è questa vendita, come si fa questa vendita? C'è una cooperativa, come si fa questa vendita? No, 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 non c'è nulla, siamo buoni, 30 anni va a fare una cooperativa, se l'hanno pagato, se l'hanno pagato, se l'hanno pagato, se l'hanno pagato, si vende, come si dice, tutto un diretto, o in casa, o per, io ne vengo paretti, ci chiamano Hawaii, e pizzeri fine, altrimenti ne mando paretti, in continente, ci sono anche i bannatteri, che si biano. E c'è di noi la cucina, infatti, si vede a piedra, facendo la piedra una costanza? Allora, c'è di noi, c'è di noi, c'è di noi, a piedra, che si bia, non è neanche la verina, perché è molto difficile, a piedra si bia la verina, a piedra si bia un granulà, appena più rosso che la verina, ma i berri ci aiutano abbastanza, perché si bia un po' di roba. E dopo c'è la cucina, i biscotti? Sì, allora qui c'è, io ne vengo mica, per cucinare così, ma ci sono amici a me, che vengono a quelli che fanno i biscotti. e se tu sai, vi scottare la verina, la verina castagnina, se ne vengono assolutamente? quello che facciamo con canistrile, la verina, la verina castagnina, e bere, tutti. Allora, abbiamo fatto un prodotto, e giusto al momento, se ne va di male. 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 E ho lavorato, e ho lavorato, trent'anni, per andare in questo mondo, per andare bene la nostra roba, come il giorno, e bere, che l'affare andava bene, si è cascato, questo affare addosso, è un peccato. e si bevano a bere, come si attrava la castagna, e ci siamo rimandati in Isola Cevio Morbo, e poi si è rimandati con Kuduli a bere a Dio Morbiolo, e bere da bere, che non si attrava la nostra roba. Mi chiamiamo Francesco Vinciguerra, che sono all'Isola Cevio Morbo, e faccio qualche anno, e mi rimuessi a giorno questo castagnino, che era l'abandono. E' stata una dinamica appena assuaggiata, e tutto il mondo ha partecipato. e che tutti i padroni hanno partecipato a questo progetto, a chi ci ha dato castagni, a chi ci ha dato a disposizione di zika d'odio, a chi ci ha dato legno e pesicà. Quindi c'è una piccola dinamica che si è messa in piazza, va già 11 anni, e oggi a Brò, attraverso l'Oberra, c'è una cosa che ritrova c'è tutti i paesi. Al di là del castagno, c'è un'attività famiglia, c'era tutta la famiglia che partecipava all'Oberra, oggi vediamo che il paese non c'è più Nimo, c'è più Mandobra, c'è più Gioventù, quindi è più difficile da fare, diciamo, se non c'è un'attività più grande, è difficile da avere un mondo di tutti i paesi. Oggi, la meccanizzazione è appresa a piazza di Mandobra, se può comprare tutto il materiale, ma un momento dato per amortizzo, c'è una certa quantità, oggi non c'è piccola produzione come noi, che è più per fare un castagno dietro che per comprare Nanto, di figli, di ammortizzo, un investimento così. Quando abbiamo un'attività, una piccola quantità come faccio io, l'importante è di dare una salea giugiale attraverso il castagno. Dunque, se domani abbiamo un trattore, un aspiratore che possiamo andare a raggiungere, non è più il stesso lavoro, che non è più ciò che ha il sud e va al principio. Oggi faccio il piacere di trovare un'amica, passare due domeniche, l'aspetto giugiale da castagno di noi. La raggolta la castagno ha cambiato, non è più come con la sport e la spagliola. E' sicuro che qui ha cambiato in furia qui, ed è visto mettere i reti, e con questa macchina che viene dall'Italia, e forse ci aiuta di più, perché ci troviamo poco vantaggio per accogliere l'antica. Noi ci ha permesso di andare davanti e di fare un bel rinno, un cuo a Castagna, un cuo a Varina Castagnino. I reti costano abbastanza cari, in luoghi come qui, nei decimassi petri, si stracciono spesso, e poi qui ci sono macchine che trovano 15-20 giorni, e c'è un angaro, e costano abbastanza cari, dopo c'è un trattore, e noi in montagna siamo sicuro, non siamo abituati a avere tutto questo materiale. E' una giornata come oggi, potremmo cuoia una tonne e mezzo, due tonne a duce. A due volte si castagne, che giovano a mano, e vediamo che sarebbe difficile da arrivare. E' un giorno di ripiantare. E' provato a piantare, e c'è qualcuno che pia, ma... La questione che ci punivano è che, come facevano i nostri antichi, a piantare tanto all'espesso, e a fare crescere, perché mi pare che non abbiamo perso un po' cosa per fare. I vici si danno assai, eh? Pensavano quando c'è una generazione che avevano avuto, eh? Penso mica che piantavano un arbero per provvettare niente, perché, visto il tempo che metto un castagno, come qui si qui, piantavano e insettavano, Pensando? Pensando a tutte le generazioni che avevano avuto. Se vieni a una società, io c'ho tutto andato in furia. C'ho piantato il castagno quasi, perché tu produci l'anno dopo. E un po' mi cantano con il castagno, perché il castagno c'ho 20, non so mica, 15-20 anni, perché tu comincia a producire, in conseguenza. La prima volta che si secchano i castagni, ci ho contato una ventina, 20-23 giorni. C'è un'altra maniera che si chiama che ovume? C'è un soffietto che soffia l'aria in furia, calda, e che secca i castagni. Questi secchi castagni... in seione. Avevano gli stessi gusti, se cade l'aria in furia, se cade ovume? No, avevano gli stessi gusti, che di sicuro ovume lascia un piccolo gusto. Mi piace o mi piace mica, ma c'è una riferenza di sicuro. A Pistera si face d'una maniera o dell'altra. Noi abbiamo una piccola macchina che è stata fatta 100 anni fa in Italia, e che pesce i castagni abbastanza pochi, abbastanza... beh. Dopo ci ho scegliere i castagni, allora castagni... Oggi è tempo e oggi, non cerca una maniera di fare. Ci ho sceglione una a una in collocchi. Non ci riunio un mulino, noi li passiamo al volo. E il volo permette di pulisci appena la castagna e di dare un piccolo gusto a la varina. Allo sul mulino, ma c'è l'elettricità, io non avevo mai avuto la chance, l'avevano detto molino in azione. Molto ore faccio un piccolo rumore, ma io immagino, è la castagna che passando a mezzo di maggio, tanta, più o meno, e faccio la varina più o meno buona. Credo che la varina c'era sempre stata più chiara e più scura. e qui c'è una maniera un po' risiccata. Ci sono gli antichi pinus, il tempo, passi che i castagni, gli castagni all'espesso non tarati. E qui c'è una varina ben chiara, ben bianca. e dopo ne colorisci un cuvore, più o meno. Dopo, quando c'è un castagno un po' troppo infuri, un tarato, con una mica troppo abbrata, caccia certi castagni che non hanno più colori di castagni, ma colori di mattoni. Sono scuri. Sono scuri e dopo la varina è colori di mattoni. a me senza, a me gusto, perché dopo ognuno è un colore un po' più uggiato, mica troppo appogliato, un po' su colori. E' un peccato. Allora, con tutto quello che hanno cambiato, c'è il modernissimo che è giunto, i filetti, quelli che si soffia ora, i gusti. E' meglio per poi avere tutto questo materiale. Per me no. ho comprato, ho comprato, ho comprato 7 ettari di filetti, ho comprato un trattore, una macchina di castagno, una macchina di italiana, quella macchina di Montchier, ma per me, per Mobert, è me a combattere l'uomo delle macchine. E' bene, il gasoile, fai così, mi spiegia. Custa dei sui materiali? Ecco, costa. Custa abbastanza. Si mi ha aiutato, è un'esplosione per comprare, ma mi sono sbarazzato a tempo di 3-4 anni. Oggi c'è 6 giorni che potrebbero, non pensi una verena. Tu che dici per 6 giorni? Pensi che c'è... Oggi c'è una piazza per altri giorni per fare il tuo lavoro? Sì, sì. E' sicuro che attualmente c'è la vendita. Dunque, un mistero, tu sei sicuro di vendere la roba, di un affarone, di un affarone. E poi, un solo pensiero, c'è una d'altro pensiero, ma l'affare non c'è quello che li trovano e si mette veramente a un punto, non c'è un fondaggio, ciò che li installano, non c'è il più possibile, non c'è i luoghi che li abbiano per parecchi anni. Non c'è nemmeno, ciò che aiutano questi giorni, che possano avere i luoghi, almeno per una vita professionale. Una vita professionale per 25 anni, ciò aiuta i luoghi per 25 anni. Allora, nella Camera di Cultura ci sono i tecnici che si occupano la castagna, chi li ha aiuta con questi che lavorano con i castagnetti? Allora, io conosco tutti, e se ne entro con i quali ho lavorato dopo i trent'anni, perché c'è uno con noi dopo i trent'anni, ma non si rimane mica tutti gli uomini, ma quando abbiamo bisogno, sono qui e li possiamo mandare. A chi li trovano? Chi fanno? Allora, loro occupano di tutto ciò che... Nenzo, quando abbiamo visto la rinnovazione tra i castagnetti e i eleggi che venivano, a contabilizzare i castagnetti a fare, 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 così ja'. Quindi senza trovarlo quindi la rinnovazione tra i carri. Che aiute ha chiesto, che aiute ha chiesti? Che aiute ha chiesto con i miei castagni joi? Abbiamo, come tutte le agricoltore in Cossiga, l'aiuto della batteria Rodak, quella che ha un progetto e aiutare fino al 50%. Abbiamo l'aiuto, se lo chiamiamo, vegetale, come l'anno per gli animali. Abbiamo l'aiuto anche al bio, e tutti quelli che ci aiutano a continuare a campare in paese e a fare pene i verini. Dunque, ogni situazione, appena che tu sei legato, come bello la bene, come vuoi la castagna? Oggi, ognuno vuoi? Io, la bene della castagna, una volta regolato l'affare di osilips, avevo i veri, avevo i veri, penso che c'è abiezza perché ci stanno in qualche giorno, e c'è abiezza che li campano i veri e che li vincano la sua vita. Dopo, ci vorrei bere veramente, perché c'è mica, quando tu sei in paese, c'è mica solamente la maniera di lavorare, c'è la maniera di campare, la vita sociale di i paesi. e per me, un pensiero più grosso attualmente, sarebbe forse qui, sarebbe di questa vita sociale che ci sono in paese, che non c'è più nei nostri paesi. Un giorno che si sta là, odio di me, che ha da campare una vita sola, è impossibile, è impossibile. Un'economia senza l'uomo non è mica possibile. Un'economia senza l'uomo non è impossibile, qui è sicuro. E oggi ho provato ad oggi in un paese qui? Sicuro, sicuro, sicuro. Allora, pensi che ci può essere, qualche giorno può arrivare a stare in paese, a campare in paese, pensi che il costa niente può essere, oggi è una ragione di arrivare in un paese? Sicuro, sicuro, sicuro. Di una maniera di campare, di una buona, che oggi può fare a campare, anche la famiglia. non c'è la rafforza, come faccio io, non c'è la mia, forse va solamente a castagna, non c'è forse bacche, porci, cabre, pegole, noisò, ma può essere un'attività con un'altra, con un pareti ostre, che può mettere il campare in paese. Allora, per compiere, quando ti domandò un giorno, vanno in un paese, c'è la formazione, come puoi imparare un mestiere castagnaio? Come si impara? Allora, oggi ho messo a scuola, ho messo a scuola, ho messo a scuola che imparano a combattere castagna, a fare ferina. ciò che lui venga a lavorare con noi, con gente come noi, i giri mo i vecchi nanziani, bocca, si muoventa di nanziani, e per moberta, io sono pronto a aiutare, a imparare, a dire un mosa bene per un giorno che sarebbe buono a fare questo mestiere. E c'è dove i giorni ti hanno un mandato? No, di raro, di raro. a un giorno qui parla di buchi di guacche. A pià e guacche, a pià e guacche. E guacche, la gianchiera guacche, ma non c'è più che guacche in Cossiga. perché c'è la prima, io non c'è più prima. C'è una storia, c'è una storia, c'è una storia, c'è una storia. Non c'è mica parlare da lì. Dunque, per compie, la bene per te è sempre buono. e per me, personalmente, a me da, c'è che ragia finisce. Per esempio, c'è un paio di violi e c'è forse uno che bluerebbe via, oia, oia, e per i castagni ci sarà di che trovare. Lei mi ha lasciato che cosa, un capitale di trovare. Beh, adesso metto più e mi ha appena dare dei miei castagni, che? Io, adesso mi viene, ma sarebbe appena l'anzo. Ma quest'anno che bene ci sarà di amare quello sovrano. Ti ringrazio? Allora, forse, ne sembra da bene più, noi auguriamo che andare a vivare questi castagni, perché i gorsi hanno veramente bisogno di questi castagni. Saluto a tutti. per la vita per la vita Grazie a tutti.